Ed eccoci qui, bentrovati, è stata una brutta partita, prima o poi bisognava perderla, difficile anche da descrivere se non fosse per un monumentale Perin che ha salvato la Juventus in diverse occasioni Ezio, formazione sbagliata, motivazioni sbagliate, sottovalutazione dello Stoccarda, difficile dire e fare un'analisi logica di quanto abbiamo visto, alla fine confusione insomma. Ci metteremo un po' di tutto Massimo, ben ritrovati tutti, è successo, si è perso, prima o dopo si doveva perdere, perché è stata una serata iniziata male, con infortuni a Douglas Lewis durante il riscaldamento, è proseguita peggio e conclusasi con un verdetto del campo sacrosantemente a favore della squadra che non solo ha giocato a calcio, ma che ha giocato bene, che poi questa sera abbia giocato una sola squadra, quello è un discorso che adesso affronteremo. Ed è terminata con un risultato anche iniquo, se vogliamo, perché non fosse stato per perin, saremmo incorsi in una brutta umiliazione, peraltro casalinga. Ora, abbiamo visto, anzi abbiamo visto così nulla, la Juventus è stata talmente inesistente, talmente evanescente, talmente ectoplasmatica, inconcludente, quasi come non si fosse presentata in campo. Intanto sembrava che giocassimo in trasferta, perché lo Stoccardo ha preso possesso della nostra metà campo, della nostra traquarti e ci ha impedito, ha effettuato una prima pressione, ma anche con molta attenzione nella loro seconda linea, che ci ha impedito di giocare la palla, di mantenerla per oltre un paio di passaggi. Ma, dicevo, siamo stati talmente nulla, ma un nulla mischiato con il niente, che paradossalmente, paradossalmente tutto questo diventa meno preoccupante rispetto all'aver fatto una grande partita e non aver vinto perché si è sbagliato troppo, oppure di aver giocato male e quindi essere rimasti inespressi nel volere e non potere. No, lo Diventius proprio non ha giocato, è stata presa a pallate per 90 minuti, in 97 minuti, e se vogliamo considerare il recupero anche del primo tempo, anche qualcosa di più di 97, e non inganni il fatto che negli ultimi dieci minuti del secondo tempo si sia riusciti a frequentare la metà campo tedesca, riuscendo ad originare qualche situazione. Abbiamo perso, meritatamente, perché? Da una parte probabilmente perché il nostro card è stato sottovalutato, non si è tenuto conto, ad esempio, di quanto lo aveva già fatto vedere nei confronti del Real Madrid, stiamo parlando del Real Madrid che l'ha sofferto, non dell'ultimo acceleratore d'Europa, perché probabilmente ha ingannato il fatto che abbia perso l'ultima partita con il Bayern 4 a 0 e che in questa stagione occupi il decimo posto in gradatore in Bundesliga, l'anno scorso arrivo seconda, e perché non escludere, secondo me, e c'è anche del nostro, che questa partita non sia stata preparata a dovere, molto probabilmente, forse un po' di snobismo dell'avversario, ma certamente l'atteggiamento non è quello che non è quello che ci si aspettava. La formazione iniziale mi ha perplesso non poco, con individualità che forse per motivi opposti, sto parlando di Danilo e di Savona, e quindi dico che per motivi opposti o non sono più o non sono ancora adeguati a questo tipo di contesto... Uno non lo è più, l'altro non lo è ancora... Ma questo non per gettare la croce a Danilo e a Savona, che hanno sbagliato tutto il giusto e anche di più, perché comunque stasera è mancata completamente la squadra, quindi sarebbe anche assurdo voler far salire qualcuno sul banco degli imputati, se non il signor Tiago Motta, perché se manca tutta la squadra, il principale responsabile non può non essere l'allenatore... Volevo farti una domanda tecnica... Sì, finisco, solo due cose... Noi ci aspettavamo tutti, a prescindere poi dal risultato finale, che l'atteggiamento della Juventus fosse stato quello che invece ha messo in campo lo Stoccarle, vale a dire una squadra che ti aggredisce, una squadra che ti mette al muro, una squadra che ti impedisce di giocare, che ti soffoca, che arriva sempre prima sulla palla, che si rende estremamente pericolosa ogni qualvolta si avvicina alla terra che scotta nell'avversario o addirittura la sopporta, lo Stoccarle ha fatto la partita che noi avremmo voluto vedere fare dalla Juventus, una Juventus incompleta, molto incompleta, perché gente che è stata acquistata per essere titolare non era e non poteva essere in campo e quindi in questa non partita, perché è stata una non partita, ecco, così catastrofica, proprio perché così catastrofica secondo me si possono trarre motivi di sollievo. Ne parlavo in cronaca diretta, mi è capitato in questi 60 anni che seguo il calcio di vedere squadre in costruzione che intraprendono dei percorsi cambiando veramente tutto, non solo negli uomini, ma anche in quella che è la pelle storica di un club, incorrere ad un certo punto in veri e propri passaggi a vuoto. Quello di stasera contro lo Stoccarle è stato un vero e proprio passaggio a vuoto. Si riprenderà il cammino, ce ne saranno ancora, non possiamo pretendere che in tre mesi questa squadra diventi e faccia vedere il calcio dell'Ajax di Cruyff, del Milan di Sacchi, del Barcellona di Guardiola, del Torino di Radice, della Juve di Lippi, no, non lo possiamo pretendere anche perché non ci sono quelle individualità. Possiamo invece pretendere con la Juve che si sbatta dal primo al novantasettesimo minuto sputando sangue per cercare di vincere la partita compatibilmente con i propri mezzi. Una cosa che questa sera non è successa. Certo, molto per il Barcellona, scusami, lo Stoccarle è sembrato una squadra formidabile, ma è comunque una squadra che ha lo stesso allenatore da due anni. Il signor Sebastian Ernest è al secondo anno sulla loro panchina. si è vista la differenza tra una squadra rodata, una squadra che ha dei meccanismi collaudati, che ha dell'intese, con giocatori che si trovano a memoria, e una squadra che invece è, anzi, un abbozzo di squadra che è solo imbastito, non è ancora nemmeno cucito, è appena appena imbastito. Questa differenza è emersa tutta, quindi complimenti allo Stoccarla, amico meritatamente, bravi loro, ma sono sembrati anche molto più bravi di quello che sono, perché non hanno trovato nulla in opposizione. Io credo che la verità stia un po' nel mezzo. Ecco, ho una domanda tecnica per te. Allora, noi sembriamo, e Motta parla sempre di possesso palla, questo è un possesso palla conservativo. Noi non abbiamo la differenza fra lo Stoccarla e noi, che lo Stoccarla verticalizza e non ha paura di prendere palla e cerca di recuperarla. È un po' la filosofia di Motta. Noi la teniamo troppo, ma se il regista è McKennie, e cito una volta le dichiarazioni dell'Avvocato, se il regista è la palla passa da Furino, allora cosa abbiamo comprato a fare Michel Platini? Mi dà tanto l'idea che questo vezzo di mantenere troppo la palla sia deleterio. La palla va giocata. Abbiamo visto pochi lanci, se non uno o due, e davvero poche costruzioni, se non sterilmente far passare la palla a centrocampo conservando. Il dato del possesso palla è puramente indicativo, perché se poi non fai gol te la puoi tenere anche per 80 minuti. Ma se poi vedi che manca qualcuno. McKennie, grande lavoratore indiscutibilmente, è una persona... Ma il regista era Fagioli. Sì, poi è arrivato Fagioli, perché faceva il trequartista, ma nemmeno quello. Però non è un'analisi, mi sembra, accampata in aria. No, però sai cos'è? È che stasera non abbiamo fatto nemmeno il possesso palla sterile. Perché chi cercava di recuperarla la palla, secondo la filosofia mottiana, la palla la devi riconquistare. Io mi sono sentito raccontare all'inizio stagione che questa squadra doveva dominare il gioco, doveva attaccare, doveva essere intensa e recuperare in fretta la palla, e quindi farsi forte delle transizioni della riconquista della seconda palla in uscita per aggredire e sorprendere l'avversario. Io, non solo questa sera in realtà, da alcune partite non vedo questa cosa. È vero, il nostro possesso palla è un possesso palla di tipo conservativo, volto soprattutto a non subire gol. Perché se la palla ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno gli altri e quindi... Però è anche vera un'altra cosa, che nel momento in cui tu cominci a costruire una... devi costruire una squadra che si parte sempre dalla difesa. Per cui la prima preoccupazione è rendere solida una squadra. E per rendere solida una squadra la prima cosa è occuparsi della fase difensiva. Dopodiché si va al centro campo. Ora, noi avremmo finalmente bisogno di avere l'organico... Ufficiale, chiamavano così. A comprare poter disporre degli uomini che abbiamo comprato perché vorremmo anche farli giocare. E che soprattutto si insista, si dia continuità con una scelta, scegliendo un certo tipo di centro campo e su quello continuare. Perché altrimenti non raggiungeremo mai una omogenia dell'intesa, dei meccanismi consolidati. Perché questo è il punto. Poi, è proprio per questo che vi dico... Adesso io lo so che stasera la delusione è coccente, che gli unici pensieri che possono scaturire stasera sono quelli più pessimistici possibili, che si vedrà tutto nero, che sarà sempre così se non peggio. Non è vero. Non facciamo una catastrofe di una partita persa perché non giocata, che non compromette nulla, perché non compromette nulla, e non commettiamo l'errore di buttare via il bambino con l'acqua sporca. E' una fase di passaggio. Non vorremmo mai averle. Però ci sono. Queste fasi non vorremmo mai avere di questi momenti, però le attenuanti ci sono. E ci sono, mi sembra, anche in abbondanza. Detto questo, è ovvio che vorremmo aspettarci confortanti segnali di progresso e miglioramento, evidentemente fin da subito. Purtroppo è andata così. Grazie a Perin abbiamo evitato un'umiliazione. Però, come se... Io so che Tiago Motta dice certe cose perché le deve dire anche. Non penso che ci creda poi fino in fondo. I giocatori non sono tutti uguali. C'è qualcuno più uguale degli altri. E se la partita è più importante è sempre quella imminente, quella più vicina, e allora devono giocare i migliori. Perché cambiaso per questa Juventus è assolutamente imprescindibile. perché in una gara come quella di stasera, con uno stoccard che si sapeva essere una squadra prolifica sotto il profilo realizzativo, ma si sapeva anche se era una squadra che nel momento in cui si vede superata nella propria pressione, concede moltissimo, tanto che è una squadra che ha subito un sacco di dolore, a parte stasera. E quindi, certe scelte iniziali, secondo me sono state assolutamente molto ma molto censurabili. Non entro, a parte la straordinaria prestazione di Peric, non entro nemmeno nel merito dei migliori o dei peggiori. Perché questa sera la Juve non è esistita. e non puoi non puoi esperire valutazioni sul nulla. Il nulla è ingiudicabile e insisto, meno male che c'è stato nulla anziché un brutto disastroso. Sarebbe stato peggio. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, ci vediamo nei consueti appuntamenti. Grazie a tutti, è notte, perché stiamo a registrarlo. Sto a poco spegniamo le luci e vi salutiamo. Sì, è l'ultimo a chiudere la porta. Ci vediamo presto. Come di consueti. Saluti, bianconeri a tutti. Aug.